Brava Nonna! Nonna Angela si chiama? Allora... Ma... Nonna Angela, ti è piaciuto lo spettacolo? Come è stato? Sperto? Ti sei divertita? Mi raccomando, sempre in gamba. La nonna Angela è nata il 1920, 8 marzo. Hai capito? Nonna Angela, guarda che devi dire. Viva le muse! 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 Ciao! Viva le muse! Viva le muse! Viva le muse! . Grazie a tutti